il primo passo per installare wordpress in locale sul tuo mac utilizzando desktop server è quello di procurarsi una copia del software ed è possibile farlo visitando il sito serverpress.com oppure digitando l'url www.fogliata.net slash go slash desktop trattino server una volta arrivati sul sito di desktop server è possibile scaricare una copia del software che è disponibile in due versioni una pagamento chiamata premium da 99 dollari e 95 e una gratuita chiamata desktop server limited che permette di installare fino a tre copie di wordpress sul proprio mac chiaramente la versione gratuita offre meno funzionalità però offre tutto quello che desideri ed è più che sufficiente per iniziare a sviluppare il tuo sito e per fare tutti gli sperimenti con wordpress per scaricarla è necessario aggiungere desktop server limited al carrello e procedere poi a inserire alcuni dati personali essenziali per procedere all'acquisto nome e cognome e indirizzo email basta poi accettare le condizioni d'uso e cliccare sul pulsante blu che trovi a fondo pagina nella pagina successiva vengono poi forniti link per scaricare le varie versioni di desktop server quella che al momento ci interessa è l'ultima versione disponibile per mac basta cliccare quindi su questo link per procedere al download una volta terminato il download ti basterà aprire la cartella dei download sul tuo mac e troverai il file dsl-mac versione 383 in questo caso .dmg facendo doppio clic su questo file il pacchetto verrà scompattato e una volta terminata la procedura ti basterà fare doppio clic sul file install dsl-v383 nella finestra che comparirà basta cliccare su continua inserire la tua password amministratore del mac cliccare su ok accettare i termini e le condizioni d'uso e selezionare appunto una nuova installazione di desktop server questo punto un messaggio di conferma ci informa che l'installazione è stata completata con successo possiamo quindi cliccare su ok e poi su finish chiudiamo pure questa finestra aprendo la cartella applicazioni del nostro mac il programma va creato una cartella chiamata xamp all'interno della quale è presente l'applicativo desktop server facendo doppio clic su di esso possiamo avviare desktop server come prima cosa ci viene chiesto di riavviarlo per fare in modo che desktop server parta con i privilegi adeguati essendo un servizio ti basterà cliccare su next inserire la password di amministratore del tuo mac dare ok cliccare ancora su next e desktop server provvederà ad avviare i servizi indispensabili ossia il server web e il server database a questo punto puoi cliccare su next e iniziare a creare il tuo primo sito con wordpress assicurandoti di aver selezionato create a new development website possiamo cliccare su next scegliere il nome di dominio del primo sito possiamo lasciare benissimo quello di default e clicchiamo su create desktop server procederà a creare le cartelle e il database e riavviare i servizi cliccando su next ci verrà fornito un url cliccando il quale potremmo avviare la procedura di installazione del nostro sito wordpress selezioniamo italiano come lingua clicchiamo su continua possiamo tranquillamente allargare a tutta finestra browser diamo il nome che desideriamo al sito nome utente e una password chiaramente essendo un sito locale non ha alcuna importanza prevedere paso di elevata sicurezza così come mettere indirizzi email reali possiamo mettere tranquillamente un indirizzo email di prova ed ecco fatto il nostro primo sito wordpress in locale è stato installato molto velocemente cliccando qua in alto possiamo accedere anche cliccando su next possiamo accedere a questa parte amministrativa di desktop server e soprattutto cliccando sul pulsante sites verrà aperta una finestra del browser che ci consente di gestire i vari siti in questo caso solo uno creati con desktop server cliccando su questo pulsante visiti website visualizzeremo il front end del nostro sito cliccando su dashboard accederemo all'interfaccia amministrativa del relativo sito e cliccando su database accederemo allo strumento phpMyAdmin per il database di quel determinato sito potendo così esportare il database o effettuare operazioni direttamente sul database di quel sito tornando a desktop server così come abbiamo creato il primo sito possiamo crearne anche uno aggiuntivo clicchiamo selezioniamo ad esempio example 02 next senza rifare tutte le operazioni clicchiamo direttamente next e andiamo a vedere la sezione sites e vediamo che oltre al primo sito è presente anche il secondo così come è facile crearli con desktop server è facile anche eliminare i siti già creati in precedenza torniamo all'interfaccia e volendo eliminare questo secondo sito ci basterà selezionare la funzione remove poi next selezionare il sito che intendiamo rimuovere attivando l'opzione remove cliccando questo pulsante una finestra di avviso ci informa che quest'operazione è irreversibile e che procederà alla cancellazione di tutti i file e database del relativo sito clicchiamo su yes per confermare e desktop server rimuoverà il sito appena creato clicchiamo su next andiamo a rivedere la sezione sites e come era facile immaginare ritorniamo a vedere semplicemente il primo sito creato una volta terminato il lavoro di sviluppo del proprio sito voi volendo fermare desktop server è sufficiente selezionare stop o restart next stop the web and database services next e poi chiudere il programma in questo caso desktop server è per così dire spento e la cosa da tenere presente è che in questo caso il nostro sito sarà raggiungibile perché avendo spento il web server, il database server non è possibile contattare il server web e quindi avere accesso al sito una delle funzionalità più interessanti di desktop server è quella che prevede la creazione e l'utilizzo dei cosiddetti blueprint ossia una sorta di template di siti che permettono di ogni volta poter partire con una determinata configurazione prestabilita mi spiego meglio proviamo a creare un nuovo sito con desktop server e nella sezione blueprint dell'installazione di nuovo sito è possibile vedere che di default possiamo scegliere tra un'installazione vuota non wordpress che non è quella che ci interessa oppure wordpress 4.7.0 questa comprende il pacchetto standard di wordpress nulla di più, nulla di meno qualora noi però volessimo creare un'installazione che comprenda uno o due dei nostri temi preferiti e uno, due, cinque o dieci dei nostri plugin preferiti possiamo farlo possiamo quindi creare un pacchetto che quando lo desideriamo possiamo utilizzare per avviare una nuova installazione locale di wordpress che comprende già tutti i temi e i plugin che noi desideriamo per fare ciò la prima cosa da controllare è nella cartella applicazioni xamp blueprint che si è presente appunto il wordpress 4.7.0 quello di default procediamo però adesso a scaricare una copia di wordpress direttamente da it wordpress.org e successivamente procederò a scaricare un paio di temi e un paio di plugin di un paio di plugin Una volta completato il download di Wordpress dei temi e dei plugin è sufficiente andare nella cartella download del tuo Mac, copiare il file zip relativo ai file di Wordpress nella cartella blueprint di desktop server e successivamente scompattare i file dei temi e dei plugin apri anche il file zip di Wordpress originale e all'interno della cartella vpcontent plugin va a copiare la cartella dei plugin scaricati, le cartelle dei plugin scaricati e puoi anche rimuovere ad esempio il file lophp che non ci serve. All'interno invece della cartella vpcontent Teams andremo a copiare Genesys e il child team di Genesys e possiamo anche rimuovere alcuni dei temi standard di Wordpress. Una volta terminato sempre nella cartella blueprints andiamo a rimuovere questo file e a compattare questo in un nuovo file zip che possiamo chiamare ad esempio Genesys trattino base. Ricapitolando, nella cartella blueprints abbiamo la cartella blank non Wordpress che sarebbe l'installazione base di un sito non Wordpress, Wordpress trattino 4.7.0 che è il default dato da desktop server, Genesys base.zip che è quello che abbiamo creato noi adesso. Tornando a desktop server, ovviamente selezionando adesso dal menu blueprints, non vediamo ancora Genesys base perché l'abbiamo appena creato, è necessario tornare indietro e riavviare il web e il database server. Tornando Restart. Una volta riavviato possiamo procedere a creare un nuovo sito Wordpress e questa volta dal menu blueprints vediamo che esiste la voce Genesys base. Ci basterà selezionarla e modificare il nome di dominio di esempio di questo sito, chiamiamolo ad esempio Genesys.dev, andremo a crearlo, clicchiamo su next, cliccando sull'url relativo all'installazione di questo sito Wordpress non ci chiede nemmeno la lingua avendo scaricato il pacchetto già per l'italiano. Andiamo a completare con le informazioni standard. come puoi vedere andando nella sezione aspetto temi sono già presenti il tema Genesys padre e il tema child Genesys sample che possiamo attivare e andando nella sezione plug-in sono già presenti i host SEO e Genesys translation, i due plug-in che abbiamo aggiunto al nostro blueprint personalizzato che anche in questo caso possiamo andare ad attivare. Visualizziamo il sito e vediamo un classico tema standard di Genesys. Qualora per un motivo o per un altro dovessi incontrare un problema con desktop server, ad esempio non riesci a collegarti a un sito, hai un problema che il tuo sito non risponde o quant'altro, il primo suggerimento, la prima manovra da fare è quella di riavviare il web e il database service. Cliccando su next, restart, ancora next e verificare se ora riesci a riaccedere al tuo sito. Nella stragrande maggioranza delle situazioni questo risolve i problemi. Vediamo infine come rimuovere, ossia disinstallare desktop server dal tuo Mac. Per farlo è necessario o comunque estremamente utile disporre del file di installazione di desktop server. Torniamo quindi nella cartella download, riapriamo il file dmg precedentemente scaricato e andiamo a cliccare nuovamente sul file di installazione di desktop server. Doppio clic. Continua. Inserisci la password di amministrazione del tuo Mac. Accetti i termini. Questa volta però non è possibile selezionare la nuova installazione se non è già installato. Seleziona quindi uninstall. Continua e desktop server procederà a rimuovere tutti i file del programma così come il database e i file relative alle tue installazioni locali di WordPress. Quindi prima di disinstallarlo presta molta attenzione perché questo rimuoverà anche tutti i siti locali che hai precedentemente installato e attivato. Una volta completata l'operazione di pulizia, una finestra ti avviserà che l'operazione è stata completata e cliccando su finish desktop server è completamente rimosso dal tuo Mac. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.